Sulla base di quali elementi deve essere fatta la diagnosi di Alzheimer e soprattutto qual è il ruolo del biomarker, qual è il loro ruolo oggi e quale sarà il loro ruolo in un prossimo futuro quando saranno disponibili dei farmaci a maggiore efficacia che dovrebbero arrivare anche nel nostro paese. Abbiamo parlato con la professoressa Federica Agosta che abbiamo incontrato qui a Napoli al 53esimo congresso della società italiana di neurologia. Professoressa Agosta, come si fa oggi la diagnosi di malattia di Alzheimer? Quali sono gli elementi su cui vi basate? Allora gli elementi su cui ci basiamo sono innanzitutto il riferito del paziente, del caregiver e dei familiari. Quindi fondamentalmente il paziente con malattia di Alzheimer riferisce difficoltà di memoria, eventualmente difficoltà nell'orientamento nello spazio del tempo ed eventualmente difficoltà in altre funzioni cognitive. Queste alterazioni possono impattare o meno nella fase iniziale sulla autonomia del paziente nelle attività della vita quotidiana. In base a questo riferito del paziente, il neurologo ha un ruolo fondamentale di valutazione dal punto di vista della presenza di altri segni e sintomi che potrebbero suggerire un decadimento cognitivo non degenerativo e quindi risolvibile e perlomeno trattabile in molti casi. Valutazione neuropsicologica, ossia la valutazione quantitativa di queste difficoltà cognitive con batterie di test standardizzati, esami ematochimici fondamentali per escludere che il decadimento cognitivo venga da ipovitaminosi, alterazioni endocrinologiche ed altre manifestazioni, esami neurofisiologici che permettono di escludere altre cause e fondamentale almeno nella fase iniziale un imaging strutturale con risonanza TAC per la valutazione strutturale dell'encefalo del nostro paziente. A questo oggi possiamo associare la ricerca della positività o meno di biomarcatori biologici che sappiamo essere associate alla malattia. Professoressa perché la diagnosi biologica è sempre più importante e quali sono i biomarcatori che vanno ricercati che quindi a questo punto vi danno delle informazioni aggiuntive rispetto a quello che le ha appena detto. Ma guardi le riporto un numero che credo essere abbastanza esplicativo anche quando siamo molto bravi nella definizione della sindrome clinica del nostro paziente anche quando siamo molto bravi nella esecuzione di quella batteria di test neuropsicologici nell'esclusione di altre cause con gli strumenti che abbiamo a disposizione purtroppo sbagliamo nel 15 per cento dei casi. Cioè nel 15 per cento dei casi riteniamo che il paziente abbia una malattia d'Alzheimer quando in realtà la biologia della malattia d'Alzheimer non è presente nel nostro paziente. Questo è il primo motivo quindi l'approccio clinico non è sufficiente. E vi è poi una seconda motivazione altrettanto importante. La motivazione è che la malattia d'Alzheimer biologica si può presentare con una sindrome clinica diversa da quella che noi siamo abituati a vedere nei nostri pazienti. Quindi il rischio è quello di far diagnosi di malattia d'Alzheimer in chi la malattia d'Alzheimer non ce l'ha. Viceversa nell'escludere a priori solo sulla base delle caratteristiche cliniche la malattia d'Alzheimer in chi la malattia d'Alzheimer ce l'ha. E vi consente anche di diagnosticarla prima professoressa? C'è anche un fatto di urgenza su cui si riesce a intervenire? Assolutamente sì. Fino a qualche tempo fa eravamo abituati a parlare di malattia d'Alzheimer solo nel momento in cui la clinica era decisamente molto avanzata, cioè nel momento in cui quel decadimento cognitivo di cui dicevamo è tale da impattare sull'autonomia dei pazienti nelle attività della vita quotidiana. Oggi abbiamo imparato a riconoscere la fase clinica precoce della malattia che si chiama decadimento cognitivo lievo e quindi associare alla valutazione clinica precoce l'utilizzo di biomarcatori biologici ci permette di identificare precocemente chi tra coloro che hanno un decadimento cognitivo lieve molto più probabilmente vedrà un peggioramento della sua manifestazione. Quali sono i biomarker che andate a cercare, almeno quelli più importanti? Ma noi conosciamo non tutto, forse poco ancora, della malattia d'Alzheimer ma quello che abbiamo imparato a conoscere è che la malattia d'Alzheimer è associata all'alterazione di almeno due proteine, una si chiama beta miloide, l'altra si chiama proteina tau. Prima informazione, la seconda informazione sappiamo che la malattia d'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che quindi si associa a danno neuronale, a perdita di neuroni. Ebbene oggi esistono biomarcatori sia per valutare i livelli alterati di proteina miloide, i livelli alterati di proteina tau e l'eventuale presenza e entità della neurodegenerazione. Senta, questi test oggi attualmente vengono fatti, vengono fatti un po' ovunque oppure sono nei centri più all'avanguardia come siete sicuramente voi? Ma allora innanzitutto cosa sono questi test? Questi test si possono basare su una racchicentesi, quindi sulla valutazione dei livelli proteici nel liquido cerebro spinale o su tecniche e o su tecniche di medicina nucleare che attraverso l'iniezione di traccianti permettono di studiare l'alterazione delle due proteine. Guardi, abbiamo un studio europeo che ha proprio chiesto agli esperti di malattie d'Alzheimer se utilizzano questi biomarcatori e quanto spesso utilizzano questi biomarcatori. Nell'80% dei casi viene utilizzata la risonanza magnetica strutturale, nel 45% dei casi viene utilizzata la racchicentesi, si abbassa molto la frequenza di utilizzo quando ci riferiamo a tecniche di medicina nucleare più sofisticate. Professoressa, nella sua relazione lei ha spiegato che se la ricerca appunto oggi viene fatta così un po' solo in qualche centro, certamente non in tutti, le cose dovranno cambiare. Perché? Alcuni motivi. Uno è che noi oggi sappiamo che questi biomarcatori sono essenziali nella diagnosi differenziale tra la malattia d'Alzheimer e le altre malattie neurodegenerative e questo non è banale, non è un concetto banale, non è qualcosa che non incide sulla vita dei nostri pazienti perché la prognosi delle diverse malattie neurodegenerative è molto diversa. Il secondo punto è che finalmente siamo di fronte ad una possibile rivoluzione in questo ambito. Sono noti i risultati di efficacia e di sicurezza di alcuni anticorpi monoclonali che hanno dimostrato sicuramente un effetto biologico nel rimuovere gli accumuli di proteina amiloide nell'encefalo di pazienti con malattia d'Alzheimer. Per quanto i dati sull'efficacia clinica non siano del tutto consistenti, questo ci porta necessariamente alla necessità di utilizzare il biomarcatore nella fase diagnostica. Ce lo chiederà il paziente, ce lo chiederanno i suoi familiari, vorranno sapere se la causa del decadimento cognitivo è la malattia d'Alzheimer dal punto di vista biologico e se il paziente è eventualmente candidabile a questi trattamenti. E probabilmente ve lo chiederà anche l'AIFA perché se questi farmaci come ci si augura arriveranno anche in Italia ovviamente ci saranno delle regole da rispettare. Allora la prima regola è la più banale, se i farmaci di cui stiamo parlando hanno un'efficacia biologica sulla rimozione di proteina amiloide nell'encefalo, il paziente candidabile è il paziente in cui avremo dimostrato la positività di questo biomarcatore e quindi la verifica della candidabilità del paziente passerà necessariamente attraverso l'utilizzo dei biomarcatori biologici. Avranno poi anche un possibile impiego nel valutare l'evoluzione della patologia oppure è solo all'inizio, al momento della diagnosi e poi dopo uno prende una strada e si va avanti nella maniera migliore possibile? Ma allora i biomarcatori sono già utilizzati oggi anche per la valutazione e per il monitoraggio del paziente con decadimento cognitivo. Non tutti i biomarcatori avranno lo stesso ruolo in fase di diagnostica e di monitoraggio. È chiaro che forse nel monitoraggio avranno più peso biomarcatori di neurodegenerazione, quindi atrofia cerebrale, livello di neurofilamenti nel liquore e nel sangue che sono marcatori altamente indicativi di processo di neurodegenerazione che sta a valle rispetto a processi biologici legati a proteina amiloide e proteina tau. Quindi i biomarcatori che abbiamo a disposizione sono molti e dobbiamo utilizzarli nella fase migliore rispetto alle loro caratteristiche.